Il secondo brano in programma è Magnifici 7, film western del 1960. Nel 2013 è stato offerto per essere conservato nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti da America. Proprio grazie alla trascinante colonna senora di Elia Bernstein, nominata per gli Oscar, è diventata famosissima. Seguirà il brano Giù la testa, che celebra Ennio Mori Poi, in cui troviamo l'epos, un fisco, che non si sta a capire la testa. Un comodente tema dirico che improvvisamente si appoggia sullo scanzonato tema pianistico. Buon ascolto. Prego maestro. In questo brano abbiamo due solisti, al flauto Marda Ferrara e alla tromba il maestro Giù di Portello. Grazie. 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 Bravo. Brava. Brava, Marta. Grazie. La prima parte del concerto si conclude con il brano Oro, che è la visione musicale che si percepisce per le grandi imprese sull'ordore passibile, attraverso l'affascinante paesaggio nell'ordore del Lidiano. L'adrenalina è alta, abbiamo già presentato l'autotrano e lo facciamo bene. E' il caldo, è il cauto della testa. Grazie.